È stato firmato a Firenze nella sede della Presidenza della Giunta Regionale l'accordo che mette insieme Regione, Provincia di Prato, Città Metropolitana e Comuni di Campi Bisenzio, Carmignano e Signa per la progettazione preliminare di fattibilità tecnica del collegamento tra la strada provinciale 9 di Comeane e la strada regionale 66 Pistoiese. 80.000 euro, la metà da fondi regionali, per un'infrastruttura che completerà una volta realizzata la circonvallazione di Poggio a Caiano. Si tratta di un'opera necessaria che era già stata preventivata, pensata nel 2005 dall'allora provincia e che poi è stata realizzata soltanto parzialmente. L'accordo stabilisce che sia la provincia di Prato a elaborare il progetto di fattibilità della bretella di collegamento e il rapporto preliminare ambientale. Oltre a diminuire il traffico nel centro di Poggio, l'infrastruttura alleggerirà molto anche il traffico dei comuni limitrofi della Piana Fiorentina. Un'opera che nasce dall'esigenza di dare una risposta al traffico troppo importante che grava sul centro di Poggio a Caiano, ma che negli anni ha assunto anche altri significati strategici. Il primo è quello di dare la possibilità alla zona industriale di Comeana di avere uno sbocco più rapido verso la regionale 66. Altrettanto per il centro abitato di Comeana, per non parlare poi che attraverso quest'opera si riuscirà a fare un progetto di riqualificazione della frazione cosiddetta Poggio Novo del Comune di Campi e di Signa, che diventa quindi un tutt'uno, un agglomerato di fatto del centro di Poggio a Caiano. Dopo la fase di progettazione i comuni potranno partire con la ricerca dei finanziamenti per la realizzazione dell'intervento. Grazie a tutti.